... Problemi psicosociali, psicologici per i radati, gli adolescenti che sono a casa, alla dad, a fare la dad dove non c'è la necessità, dove non ci sono casi, dove non c'è quarantena i bambini devono andare a scuola, i ragazzi devono andare a scuola le istituzioni si devono ascoltare, devono fare dei protocolli i protocolli per garantire la scuola ... 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